Due nuove medaglie italiane negli Olimpiadi di Pechino arrecchiscono il nostro palmarès di questi giochi. La prima l'ha vinta Davide Ghiotto, bronzo nel partinaggio di velocità uomini sui 10.000 metri, dopo l'argento di Francesca Lollobrigida sui 3.000 metri. L'azzurro ha chiuso alle spalle dello sviluppo Vanderpoel, ora il nuovo recordman del mondo, e dell'olandese Roesta. Un altro bronzo arriva dai 7,5 km sprint donne di biathlon, dove l'atleta trentina Dorotea Vier ha conquistato il terzo posto con una prestazione straordinaria. Delusione invece nello sci alpino per Federica Brignone, già medaglia d'argento nel Gigante, giunta solo settima nel Super G. Quello di cui sono orgogliosa è che comunque ho fatto quello che dovevo fare, l'ho fatto. Cioè non ero la più forte oggi in pista, non in queste condizioni. Mi dispiace perché alla fine ci credevo. A nove giorni dalla fine dei giochi, le imprese e i nostri atleti hanno permesso di eguagliare il numero di medagli ottenuto alle Olimpiadi in Corea. Sono infatti per ora 10 i trofei conquistati dagli azzurri, due roli, quattro argenti e altrettanti bronzi in questi giochi di Pechino.